ciao ragazzi ecco il nuovo video oggi abbiamo provato il magura mt7 tutti dicono che frenano un botto allora abbiamo provato effettivamente hanno una bella frenata mi aspettavo molto più brusca invece è anche abbastanza modulare se andiamo a regolarli bene verso il fondo corsa prima discesa è stata abbastanza traumatica perché praticamente freno nuovo pastiche nuove frenata era incomprensibile questo è un freno alla sega all'inizio completamente diversa la frenata è stato un po' 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 tra le quali posso fare tanto diversa la frenata ragazzi pare che non frena però se tiri troppo frena troppo già la seconda ero molto più a mio agio poi devo dire che mi piacciono pozza ottima sensazione l'unica cosa che mi lascia un po perplesso è il fatto che siano tutti praticamente in composto in plastica adesso non so se è proprio plastica o c'è un materiale specifico sicuramente non sarà plasticaccia però se come domenica scorsa vai contro una pianta è probabilmente si rompono sono un po delicati bella una bella leva bella ergonomica corta non arriva mai a toccare l'altro dito guardate il video iscrivetevi se avete voglia pensiamo sempre meglio è ci vediamo alla prossima o mercoledì o domenica prossima direttamente ciao ragazzi ciao 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 non poti sofferenza dur davanti da con farla un po' a fost quelli che dove non ci vedi fermi sono fattibilissimi va tranquillo vieni vai va tranquillo è tutto naturale fino a quando mi fermo non 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 Sì, sì, sì. guarda il sabice guarda il sabice grande Grazie a tutti Yes Grazie